ragazzi salve lo so bevamo che so molto ragione perché voi mi state chiedendo in tantissimi di continuare a fare video scp perché perché jacopo siamo qui con te dove è finita quella armatura? non lo so l'hai presa te? no raga io non ho la tua armatura vabbè comunque dove andiamo a scp di oggi quindi allora è buio cosa facciamo andiamo a dormire a vedere scp cosa dici? prima andiamo a dormire da sei sicuro ma la c'è una coda di ingannirla a casa infatti hanno ragione c'è di ingannirla a casa si si lo ingannirò no 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 non lo voglio ok allora eccoci andiamo a me della scp di oggi a questo punto ho visto ahia jacopo e qui cosa c'è? lui c'è il buco della statua ma l'ho mandato ma ho visto una cosa qua bianca fammi controllare cos'è cos'è sta cosa qua oh madonna oh madonna è l'allusauro scappa l'ho ucciso stai tranquillo ti toglie se sei in danno eh va bene a me non mi fa mangiare sta torta dov'è la scp di oggi? la tua la scp di oggi intendi? a me non mi fa mangiare aspetta non mi fa mangiare la torta vabbè allora andiamo a vedere la scp di oggi non fa neanche mangiare ah infatti non devo mangiare oh la scp di oggi l'ho vista qua dietro qua eccolo è qua questo è un po' strano perché è un po' perché è fuori c'è il bigfoot ti picchia quanto quanto donna ti tolto? ti ha tolto? 2 5 fuori e allora si allora con questo è questo infatti questo è un po' strano perché è fuori hai capito è fuori quello lì non lo so cosa c'è vabbè comunque entriamo vediamo ma cosa stai facendo eccolo ma è un altro safe ma questo è un po' comunque l'stp e il 1700 lo conosco non so se lo conosci ma è una scatola che praticamente è dentro questa scatola oddio che la conosco l'ho fatto nel mio canale allora ragazzi vi lascio il video alla fine del video comunque vabbè io lo ripeto per i miei fanno ecco perché i miei fanno non seguono il team dei cornetti allora questa scatola è una scatola semplice e normalissima ma però dentro questa scatola ci sono dei draghi ok ma non sono dei draghi proprio veri sono fatti di carta ok infatti sto leggendo dal fascicolo che non ti dovrebbero fare niente ok prima qua c'è qua nella cassa della carta ecco perché vuoi controllare cosa c'è? io ho controllato c'è una vetrata ok andiamo a vedere la vetrata vai apri la porta con la tua chicca ok eccola raga si? ti togli? si si quella che è questa te la ricordi? raga è quella la scatola ve la ricordate allora non mi posso ricordare a modo da vedere che la ricordo io l'ho fatta raga vedete la scatola? è quella lì infatti è dentro quella porta lì infatti io nel senso della scatola l'ho fatto tipo o l'altro ieri o l'altro ieri si mi ricordo non so se io l'ho registrato con te ma non penso vabbè entriamo entro prima io eh ok insomma cazzo è porto è quello che so se non la blocchi non ti fa niente ok eccola non fa niente infatti ecco se hai una scatola non le fai niente allora la picchio? no non picchiare niente visto che tu hai già tutto in questa scatola faccio tutto io oggi ok? perchè i miei fammi ovviamente i ragazzi voi lo volete scoprire allora animo 3 buon punto alla scatola ok? 3 2 1 picchiata si è aperta eccoli sono usciti ok sono pochi però sono 4 quanti sono? quanti sono? quanti le stanno uscendo dalla scatola? però è vuota non so ma qualche misera quanti sono? ma quanti sono raga vedete? sono tipo dei rabbi che bello quello giallo oh oh ne ho picchiato uno forse ho sbagliato perché non mi stanno picchiando sono pacifici si devo picchiare di te devo picchiarli i capelli che sono Jacopo come osi? basta Jacopo basta 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 aia dico che le danno oi aia Jacopo non devo picchiare allora comunque hai detto che questi draghi sono pacifici hai detto che questi draghi nel tuo video sono pacifici no? esattamente sarebbe bello tenerceli in casa eh sarebbe bello tenerceli in casa uno tiri aperta oh no ne sono usciti dagli altri basta no 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 non distruggere niente ho potuto scocciare le mie scelte raccomo sono un po' tanti eh comunque però non fanno niente non sognare provo a ucciderli uno con la spada di tele chi l'è? 3 2 1 uccido questo bianco uccido una casa togliesi da lì ok ho ucciso due uno giallo e uno verde non è successo niente sono pacifici fra posso fare un po' tanti voi che non ho fatto il mio video? ok uccidere la scatola con la spada di telephil no lo faccio io visto che il mio video è 3 2 1 è morta è morta la scatola e questo adesso cosa fanno? non è che adesso viene a casa nostra è un problema eh non potete reagire tutti questi draghi in casa la casa è piccola boh non è un problema se la scatola viene in casa tanto cosa ce ne frega se la scatola viene in casa tanto se non la tocchiamo se non le diamo un pugno non fa niente ok forse dire che hai ragione credo però in grado non fanno niente anche questi mostri becchi è bellissima famiglia eh infatti vabbè usciamo usciamo allora mettiamo delle torce perché l'abbiamo già visitata altrimenti ci confondiamo infatti era vicinissima era vicinissima casa comunque sta quella è una piccola è una piccola va boh c'è una piccola lasciamo la terra è una porta va è una piccola va beh torniamo in casa è un po' piccola infatti è un po' piccola infatti ecco boh ecco boh se io ci sto pensando sta sta casa è molto piccola è molto piccola va beh cambieremo casa non lo so tu non è che puoi mettere l'armatura lì non è un cavalletto tipo qua per esempio non c'è uno stand vero? o qua cosa? cosa? questa è una bottiglia lui ha benvenuto il miele è un cesto tutto qua riparo a casa com'è? com'è? rompi la cesta no io non serve niente ah no la cesta è piena se ti volevo rompere questi blocchi non succede niente no allora lo impacco comunque io ragazzi direi di terminare il video spero che vi sia piaciuto cioè ah ecco secondo me il vino è durato poco mhm beh si si io tolgo questi blocchi me le prendo me le prendo e le posiziono dentro lo disegno un po' di cose ah vedo che l'ho allargato non ceste mhm allora metto tutte le cose che non mi interessano ho preso tanto un sacco di cose ok eh niente ragazzi io direi di terminare il video qua tanto abbiamo esplorato tutto per oggi no? ok? io direi di che spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like ci si chiuderemo al canale e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao